benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube li svapo e io sono mister nino tata trattino basso tnt andiamo a recensire questo nuovo prodotto di voto fo la nuova box 200 watt dual battery la flux sopra ci ho messo un atomizzatore da flavor da 24 il loro recurve la box va veramente bene sigla e recensione voto fo presenta il tuo starter kit in collaborazione con rig mod in questa enorme confezione nella parte frontale il corpo batteria l'atomizzatore flow pro sub tank ed infine un secondo tank sostitutivo dove a sua volta porterà la capienza da 4 ml a 5 ml al lato cosa contiene la confezione il logo del brand voto fo il loro sito voto fo punto com alcune attenzioni indicando che è una sigaretta elettronica si vieta pertanto l'uso ai minori di 18 anni qui il logino della rig mod e qui alcune specifiche al lato il colore della confezione e nuovamente il logo voto fo punto com il nome del kit ovvero flux disegnato by voto fo in collaborazione con the rig mod andiamo ad aprire la confezione coperchietto di plastica c'è questo laccettino che ci aiuta e troviamo questo bel sacchettino che a sua volta conterrà libricino illustrativo della nostra box mod poche semplici pagine che ci indicano come spostarci nel menu libricino dell'atomizzatore flow pro sub tank in più questa bustina contenente gradita anche la parte trasparente perché si identifica subito il contenuto della confezioncina o ring di riserva ed in più in trasparenza un dischettino protettivo tra la box e l'atomizzatore quindi un antigraffio il cavetto usb micro usb per la ricarica delle due batterie ricordo che sarà una ricarica da 1,5 ed infine una seconda resistenza questa proprietaria di voto fo da 0,18 ohm eccolo qua a mesh vi faccio vedere l'interno ovvero la mesh che girerà a 360 gradi scaldando uniformemente tutto il cotone e rilasciando peraltro un'ottima aroma andiamo a vedere subito l'atomizzatore flow pro sub tank dimensioni 25 x 43 mm dalla base fino all'altezza del drip tip drip tip con attacco 8 e 10 dove farà forza farà presa un o ring al suo interno per andare ad effettuare il refill fa anche un ottimo contrasto come potete vedere per andare ad effettuare il refill basterà un semplice movimento per andare ad aprire per andare ad arrivare all'asola per il refill del nostro liquido intorno a tutto l'atomizzatore non ci sono segni che ci identificano dove andare a fare l'apertura vista da sotto pin non spaccato abbastanza sporgente attacco 5 e 10 e su questa placatura c'è il marchio waterfow il marchio ce waterfow.com sistema di airflow regolato tramite questa ghiera sistema a doppio airflow con un buonissimo contrasto questo atomizzatore ha un problema ha un difetto che mi è arrivato così quando tento di andare a svitare praticamente l'atomizzatore il corpo non mi si leva questo perché questa o ring rimane praticamente attaccata su tutto il vetrino su tutto il vetro ecco qua ragazzi vi faccio vedere un secondo atomizzatore che mi è arrivato con lo stesso problema una volta che sono riuscito a sfilare il tank ovvero la parte di vetro l'o ring erano rimaste praticamente incollate avendo fatto un po' di forza un o ring quella della parte superiore mi si è rotta ok sono andato a sostituirle con quelle date in dotazione a quel punto volevo cambiare direttamente il vetrino e mettere il bubble eppure facendo un po' di forza mi si è spaccato il vetrino forse perché errore mio non avevo bagnato un po' la o ring quindi di conseguenza per me questo atomizzatore non lo voglio non lo voglio recensire perché per come è arrivato secondo me è improponibile il suo utilizzo partiamo subito con la recensione della box che è quella che ci interessa di più dimensioni della mod sono 91,6 x 50 x 30 mm vista dall'alto pin autoregolante perché ammolla la box ha una bellissima linea si ergonomica sta bene in mano a delle parti stondate dove è di facile utilizzo grazie a tutto questo tasto laterale perché sarà il tasto fire questa parte nera sarà dedicata allo schermino a colori la porta usb per la ricarica 1,5 schermo da 1,3 pollici ed infine dietro il marchio con la torretta del brand con cui ha collaborato Votofo ovvero rig mod qui una volta messe le batterie ci sarà un led colorato vista da sotto flux rig mod andiamo ad aprire lo sportellino in questo modo vi faccio vedere la parte della batteria positiva la parte della batteria negativa vedete questi rialzi secondo me sono ben studiati per fare un'ottima presa sulle due batterie mi è capitato magari con delle varie mod che ho utilizzato in precedenza che delle volte lo sportellino facesse un po di gioco invece noto con piacere che questo non ha gioco assolutamente per niente inseriamo due batterie 18 6 50 ed andiamo ad inserire ed andiamo ad accendere la nostra mod chiaramente saranno 5 click per l'accensione e 5 click per lo spengimento power off allora vi dicevo non è presente il tasto menu tasto meno tasto più e tasto di accensione ovvero tasto fire 5 click veloci schermo a colori come dicevo marchio Votofo ed infine modalità standard 65 watt la carica indistinta delle due batterie i volt in relazione a quanti watt stiamo utilizzando e i nostri home della resistenza vediamo subito le combo della nostra box tenendo premuto i tasti più e meno contemporaneamente si attiva praticamente il blocco tastiera dove eviterà anche il tasto di accensione riandando a sbloccare il tutto tenendo premuto il tasto fire ed il tasto più si entrerà nella modalità in una delle tre modalità che la box ci fornisce o un momento la box non presenta tc ovvero temperature control avrà solo la modalità vari watt come vedete in questo colore ci sarà la modalità standard andando avanti tenendo premuto il tasto fare ed il tasto più cambia colore si fa si passa in powerful ancora tasto fire e tasto più cambia la colorazione rossa e si andrà in powerful plus è per altro studiata e strutturata con un menu ragazzi veramente molto molto semplice allora tasto fire e tasto meno si accede nell'ultimo menu dedicato alla luce infatti working light entriamo dando un click di conferma con il tasto più ci fa scegliere quale colorazione del led più preferiamo ed io andrò a scegliere praticamente il colore verde dando ok con il tasto fire si andrà a scegliere la modalità di come ci piace avere led io sceglierò flash ma ve le faccio vedere tutte quante con il turn off è possibile anche eliminare il led modalità braiding che cambia così con questa luce molto soffice 7 flash o 7 braiding io vado a confermare flash dando il ta la conferma sullo ok rientriamo in modalità scelta di light e scelta di luci tasto file stand by light possiamo scegliere di utilizzare la nostra il nostro led quando utilizzi solo esclusivamente quando utilizziamo la nostra mod oppure quando la modalità quando la box stai stand by il colore della il colore del led continua ad uscire frequentemente a me questo discorso non piace ed infatti avrei preferenza ad escluderlo andiamo ad inserire un atomizzatore utilizziamo uno dello stesso brand un vuoto forecure andiamo a leggere la resistenza 0 25 vado abbassare i watt allora ragazzi la box avrà da un minimo di 5 watt con scatti da uno quindi non avrà valori intermedi per un massimo di 200 watt la velocità è quella che vedete la box è in grado di leggere resistenza e da un minimo di 0,08 che vuol dire tanto è apprezzabile fino ad un massimo di 3 ohm adesso andiamo ad impostare un 40 watt per il nostro re curve 40 45 vado a bagnare un po la resistenza anche se era già un po bagnata vediamo quindi all'attivazione dei 40 watt per una coil da 0 25 io noto che anche in modalità standard standard perché sto ho selezionato praticamente il colore verde del display infatti se con il tasto fare il tasto più mi sarei mostro in power full la mia erogazione sarebbe stata più aggressiva ed infatti così è come potete vedere ad ogni mia attivazione parte praticamente il led da come io ho scelto uno il colore e la modalità flash potete quindi scegliere il colore che più vi piace o addirittura escluderlo completamente peso complessivo della box 152 grammi peso con le due batterie sono 246 grammi allora ragazzi considerazioni finali per questa flux by waterfall allora amici waterfall flux dual battery 200 watt la box bellina un design veramente carinissimo mi piace diverse diverse le colorazioni per la vendita l'atomizzatore mi ha dato leggermente fastidio il problema delle o ring attaccate mi ha dato fastidio che il vetrino babbo ovvero da 5 ml mi sia spaccato facendo una leggera forza per questo ho deciso di non recensirlo era mia intenzione portare a recensione la box spero che sia stato un problema sulla batch che mi hanno mandato io su due atomizzatori ho trovato lo stesso difetto probabilmente sarà stato un problema di fra di fabbricazione sicuramente avranno risorto questo non lo so però è stato mio e mia intenzione farvi vedere il problema che mi era suscitato ecco perché non ho voluto recensire l'atomizzatore perché poi sarebbe stato anche un atomizzatore un atomizzatore che avrebbe fatto benissimo il suo lavoro avrebbe rilasciato parecchio vapore un buonissima aroma peccato la box la box non ha il tc ma nelle sue modalità standard powerful e power power powerful plus è utilizzabile su qualsiasi atomizzatore che vogliate voi da dripping da flavor come in questo caso un bellissimo atomizzatore rta la utilizzate nel miglior modo che più vi interessa lo schermino nero di fuori con troppa luce si rischia di andare a perdere luminosità è per questo che io forse avrei preferito nel menu avere la possibilità di un contra di accedere ad un contrasto e magari di alzarlo un pochettino di più sono andato a sostituire il pin bf del mio recurve andando a mettere quello chiuso appositamente per effetti per fare questa recensione gli ho cambiato il tip sopra dando modo anche di avere una combo abbastanza carina la box a mio avviso è molto reattiva si comporta molto bene e devo dire anche che la gestione delle batterie non che le mie batterie siano nuove ho trovato una buona gestione di entrambi le batterie su un ciclo di svapo intorno ai 70 65 barra 70 watt per una resistenza finale che si aggirava intorno allo 0,15 ohm quindi la box bello il design molto carina ergonomica particolare perché non trovo nessuna squadratura per tutta la box io la box la promuovo l'atomizzatore no ragazzi lasciate un commento alla fine del video su youtube e ditemi cosa ne pensate di questo prodottino che wotofo ha messo sul mercato come starter kit costo 75 barra 80 euro kit quindi box e atomizzatore forse avrei preferito magari nella scelta poter acquistare solo ed esclusivamente la box perché magari utilizzo atomizzatori rigenerabili rta e quindi quelli a testine prefatte non li vado ad utilizzare tanto comunque per chi voglia utilizzare uno starter kit pronto da utilizzare per fare cloud se il problema della orig è stato solo un problema mio ragazzi ben venga il kit va veramente bene anche perché io l'atomizzatore ragazzi l'ho provato l'ho smontato l'ho provato più di una volta infatti la resistenza che c'avevo era bagnata appunto per entrare in recensione e poter dire la mia su entrambi i dispositivi ovvero battery box e atomizzatore piccola e piccolina e compatta e pratica due batterie 200 watt concludo qui il video con questa svapata chiedo peraltro a wotofo di fare più attenzione o di effettuare un controllo di qualità quando mettete in vendita i vostri prodotti è probabile che questi due prodotti siano stati mi sono stati inviati come test quindi il problema della o ring sia stato risolto questo è un mi augurio per il brand comunque io lo faccio presente perché mi sentivo in dovere di effettuare una recensione secondo il mio punto di vista ragazzi concludo il video lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube all'isvapo qualora non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca allisvapo lasciate un like sulla mia pagina facebook vi saluto e vi ringrazio vi invito pertanto a rimanere sul canale per le mie prossime recensioni saluto tutti quanti ciao mister nino ciao ciao ciao